Endless Love puntate turche. Il signor Haki si toglie la vita davanti agli occhi di Galip. Haki decide di togliersi la vita proprio quando Galip gli chiede se Asu è sua figlia. Nel corso delle prossime avvincenti puntate della soap opera Endless Love, il signor Haki affronterà un momento cruciale. Determinato a isolarsi dal mondo per vivere in solitudine gli ultimi giorni della sua malattia, Haki cercherà un rifugio segreto. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi per nascondersi, Galip lo scoprirà inaspettatamente. In questo contesto teso, Galip gli porrà una domanda bruciante che potrebbe cambiare tutto. Asu è mia figlia? Di fronte a tale interrogativo, Haki si troverà un vivio drammatico. Consumato dalla malattia e dai rimorsi, sceglierà di mantenere il suo segreto piuttosto che rivelare la verità, anche di fronte alla pressione di Galip. In un momento di estrema disperazione, sotto lo sguardo incredulo di Galip, Haki prenderà una decisione tragica e definitiva. Estrarrà un'arma e, in un gesto disperato e finale, deciderà di porre fine alla sua sofferenza, lasciando Galip in uno stato di shock profondo e disorientamento. Questo momento segnerà una svolta dolorosa e inaspettata nella trama della serie, influenzando profondamente i personaggi e la direzione della storia. Man mano che la serie Endless Love si sviluppa, la figura del signor Haki emerge con contorni sempre più complessi e ambigui, distanziandosi dall'immagine iniziale del generoso imprenditore. All'inizio, Haki si presenta come un benefattore per Kemal, offrendogli l'opportunità di una vita migliore. Lo introduce nel mondo dell'ingegneria mineraria come socio di una miniera situata a Zonguldak e lo invia a Istanbul per lavorare a un progetto di una centrale termoelettrica con Emir, un altro personaggio chiave della serie. Tuttavia, col progredire della narrazione, la trama si infittisce e il vero carattere di Haki comincia a rivelarsi attraverso una serie di rivelazioni sorprendenti. Una delle più scioccanti è il suo stato di salute. Haki è gravemente malato e sta lottando contro una malattia incurabile che lo sta portando lentamente verso la fine della sua vita. Questa scoperta getterà una luce diversa su tutte le sue azioni precedenti e spiegherà alcuni dei suoi comportamenti più enigmatici. Inoltre, emergono questioni irrisolte legate al suo passato e alle sue relazioni personali, che aggiungono ulteriori strati alla sua personalità. Il suo coinvolgimento in affari meno trasparenti e possibili segreti nascosti iniziano a delineare un quadro molto più complicato di quello che si poteva immaginare inizialmente. Haki diventa così una figura centrale nella narrazione, attorno alla quale ruotano misteri e tensioni che influenzano le dinamiche della serie e il destino degli altri personaggi. Galip Coscuolo, per anni, ha vissuto con il peso di una convinzione che ha turbato profondamente il suo matrimonio. Credeva fermamente che sua moglie Mujgan avesse avuto una relazione extraconiugale da cui era nato un bambino. Questa convinzione ha scosso le fondamenta della loro unione, portando Galip a compiere azioni estreme. Tuttavia, nella complicata trama di segreti che si dipana nella serie Endless Love, si scoprirà che la realtà è ben diversa da quella immaginata da Galip. Asu, la giovane che Haki ha cresciuto come sua nipote, è in realtà la figlia biologica di Mujgan e Galip. La verità emerge che Mujgan era incinta quando ha conosciuto Haki durante un viaggio a Zonguldak. Colpita dall'attenzione e dall'affetto di Haki, Mujgan ha iniziato una relazione con lui, credendo di aver trovato un nuovo amore che potesse offrirle la felicità che mancava nel suo matrimonio. Galip, ingannato dalla situazione e dai suoi sospetti, è sempre stato convinto che Asu fosse il frutto di questa relazione adulterina. Questo malinteso ha alimentato una rabbia e una gelosia devastanti, spingendolo a un atto di violenza inaudita. Nel culmine della sua disperazione, ha tentato di uccidere Mujgan, spingendola dall'ultimo piano della loro lussuosa villa. Queste rivelazioni non solo cambieranno per sempre la dinamica tra i personaggi, ma scateneranno anche una serie di eventi che porteranno alla luce altri oscuri segreti, sconvolgendo ulteriormente le vite di tutti i personaggi coinvolti nella serie. Con il progredire delle puntate, la complessità delle relazioni e le vere identità verranno esposte, aggiungendo nuovi strati di tensione e dramma. Mujgan, la moglie di Galip, nonostante il tragico tentativo di omicidio, non è morta, ma ha subito gravi conseguenze, rimanendo paralizzata a seguito della caduta. Questo evento ha lasciato segni indelebili nella sua vita e in quella di tutti i personaggi coinvolti. Per anni, Galip ha vissuto con il rimorso e l'incertezza, senza mai scoprire l'identità dell'uomo che riteneva fosse l'amante di sua moglie. Solo dopo un quarto di secolo, Galip ha scoperto che la bambina che credeva nata dall'adulterio di sua moglie era in realtà sua figlia. Questa rivelazione ha scosso le fondamenta del suo mondo, portando alla luce verità dolorose che avevano il potere di trasformare il rancore in redenzione. Nel frattempo, Aki, un uomo ormai segnato dalla malattia e dai segreti, decide di porre fine alla sua sofferenza, scegliendo un tragico destino. Prima della sua decisione finale, un evento inaspettato avviene. Galip vede Emir e Asu insieme a casa di Mujgan. Questa immagine gli basta per convincersi che Asu possa essere sua figlia, e lo spinge a cercare il confronto finale con Aki. Galip trova il rifugio di Aki, lontano da tutto e da tutti, e senza esitazioni gli chiede direttamente, Asu è mia figlia? Di fronte al silenzio di Aki, Galip, disperato per la verità, gli punta un'arma addosso. Aki, con una calma disarmante nonostante l'arma puntata contro di lui, risponde con sfida, credi che abbia paura di morire? Ma Galip, ormai al limite, esige una risposta. Questo confronto culmina in un momento di estrema tensione, rivelando la profondità delle ferite personali e dei segreti nascosti che hanno influenzato le vite di tutti i personaggi per decenni. La ricerca della verità di Galip diventa così il catalizzatore per svelare le maschere e affrontare le realtà dolorose del loro passato congiunto. Nel culmine di un confronto carico di tensione e mistero, Aki risponde brevemente a Galip con un secco non lo è, riferendosi alla paternità di Asu. Dopo aver pronunciato queste parole, l'uomo, con una calma spiazzante, estrae un'arma che aveva accuratamente nascosto sotto le lenzuola del suo letto. Senza esitazione, si punta l'arma contro e, a sangue freddo, si toglie la vita, lasciando Galip completamente sconcertato. Con questo gesto estremo, il signor Aki esce di scena. Era un uomo dal carattere benevolo, ma avvolto in un'aura di mistero che ha permeato la sua vita fino all'ultimo istante. Fino alla fine, ha manipolato le dinamiche intorno a sé, avendo sempre avuto un'influenza determinante sulle vite degli altri personaggi della serie. Un esempio eclatante della sua manipolazione è stata la sua insistenza affinché Kemal sposasse Asu, presentando questa richiesta come la sua ultima volontà. Aki, tuttavia, aveva celato un dettaglio cruciale che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi. Asu era in realtà la sorella di Emir. Nascondendo questa verità, Aki sapeva che rivelandola, Kemal avrebbe potuto avere dubbi o addirittura rifiutare di sposare Asu. La decisione di mantenere questo segreto ha mostrato quanto fosse complesso il suo personaggio, capace di tessere trame intricate pur di raggiungere i suoi scopi. Anche a costo di alterare profondamente la vita di coloro che lo circondavano. La morte di Aki lascia quindi un vuoto e numerosi interrogativi irrisolti, segnando un punto di svolta drammatico nella narrazione e nelle relazioni tra i personaggi. e spingendo la storia verso nuove, imprevedibili direzioni.